Prova, uno, due, tre, prova. Amici, amici in ascolto, è il vostro Dino Denitis che vi parla dai microfoni di Radio Bitondo Libera e vi trasmette musca, 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 musca. Questa sera siamo in trasferta al Golden Gate di Bisceglie. Le note del piano del maestro, del maestro Trovaioli danno il via a questa notte magica sulla riviera pugliese. Innamorarsi alla mia età è il tito del brano che il maestro Trovaioli sta seguendo al pianoforte. Maestro, che state suonando, maestro? Maestro, che state facendo? Fai innamorarsi alla mia età, fai! Fai innamorarsi alla mia età, fai! Ma è possibile che ci dobbiamo far conoscere pur in trasferta, maestro? Ma vi siete offeso? Vi siete offeso che vi ho chiamato Trovaioli? E va bene, era per fare un bocnotte magica, no? E va bene, vi chiamo col vostro nome, maestro De Matteo. Suonate quel che volete, tanto siamo alla radio, io poi sovrappongo. Ci sbatto dentro un bel pezzo di sinatra. Prego, maestro. Amici, è sempre il vostro Dino De Nittis che vi parla dai microfoni di Radio Bitondo Libera e vi trasmette musica, 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 musica. E adesso qualche comunicato commerciale. La casa della sposa ha l'eleganza degli sposi moderni. Sposi, per il giorno più bello della vostra vita, il corredo ok è alla casa della sposa. Via Cerignola 49, Bitondo. Non si scherza con il salame, ci vuole un brodotto di fiducia. E chi è, oggi come oggi, il vostro salumiere di fiducia? Ma non c'è dubbio, è Pinuccio Ciuccia, al vero salame nostrano. Pinuccio aspetta la sua gentile clientela a Via Cardassi, Angle, Via Principa Medeo. Telefono 459264. 080 per chi chiama da fuori bari. Ciao a tutti! Ciao a tutti!